Signore, signori, bentrovati, questo è Turo Podcast Benvenuti a tutti, benvenuti in questa nuova stagione di Turo Podcast Io sono Big e come sempre ho l'onore di avere qua davanti a me in questa nuovissima location Eliamore detto Elimor Elimor, buongiorno, no, buonasera Buonanotte, dipende quando Quando l'ascolteranno Non siamo solo, ovviamente c'è anche il nostro businessman, l'uomo più amato di Milano Il nostro bauscino Gerard For Garzia in arte Gerard E anche all'anagrafe Ciao a tutti, ciao a tutti Come state ragazzi? C'è un po' di emozione, un po' di brividino per questo nuovo inizio? Mamma mia, sì dai Ora era un po' di tempo, non si faceva una cosa così classica noi tre È stato un'estate comunque abbastanza tranquilla Però abbiamo fatto qualche qualcosina, puntate speciali estive con i nostri ospiti Ringraziamo ancora una volta in ordine di apparizione Don Mitilla Marzuoli per la prima puntata estiva speciale Francesco Milone per la seconda puntata estiva e anche lui lo ringraziamo tantissimo E Sara Mugnai ha chiuso il ciclo del terzetto estivo La triade La triade, ringraziamo tanto tutte e tre per essere state con noi E anche ci ha ascoltato durante l'estate Perché qualcuno, più di uno Ci hanno ascoltato, fortunatamente Più di uno ma meno di quattro Esatto A parte questo, com'è stato? Tutto a posto? Sì sì, tutto a posto Tutto a posto Ora siamo in quel nuovo periodo Perché per me l'anno non inizia il primo di gennaio Non so se a voi fa lo stesso effetto Esatto, c'è lo scavallo dopo l'estate Esatto, non so se perché noi abbiamo iniziato Ho il microfono troppo alto, scusate rispetto alla mia bocca Non so come fare Però è veramente come se tu stessi per affogare Senti il meme di una mamma e tieni il bambino mentre quell'altro affoga Uguale, speriamo Allora, dicevo, no per me l'anno inizia a settembre Io non so se perché Il ritaggio scolastico Esatto, noi abbiamo iniziato ad andare a scuola a sei anni Mi pare sei anni, sì vabbè L'asilo non conta dai Sì sì, sei anni E quindi niente, per me è sempre un ciclo che comincia da settembre e finisce a agosto Infatti paradossalmente agosto per me è uno dei mesi più malinconici dell'anno Secondo me, specialmente la seconda parte Goodbye my lover Goodbye my friend E lì piangi per questo nuovo anno che sta per iniziare Sì infatti Gesù, a te tutto a posto, tutto bene? Allora, così sembri veramente tipo un ospite internazionale che ci ha fatto il lusso di scendere oggi Sì, su questo sgabellino Sì, su questo sgabellino No, perché alla fine il mindset non è altro che un Esatto Krunk success A Milano parlano così, no? Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yes Che classico slang milanese Yeah, yeah, yes Yeah, yeah, yes No, perché, per chi non lo sapesse, a parte chi non lo sa Chi non lo sa vuol dire che non è aggiornato e quindi seguite Gerald su Instagram all'account Gerald Forgazia Sì, anche lì Non c'è un utente No, no, no Va bene Ti sei trasferito A Milano Un mese fa Un mese fa, sì Esatto Un mese fa a Milano Diciamo un mese Come è andato questo primo mese a Milano Milano, in Gran Milano Comunque, chi non ha ascoltato la puntata su Milano, grandi città E andrà a sentirla Però, ecco, magari fra qualche tempo si potrebbe rifare Ok, altro avendo un po' più Però quando c'è un po' più da cento milanesi Eh, figa, sì E, no, vabbè, Milano, città enorme, caotica Devo ancora ambientarmi Trovare il tuo spazio Nel mio spazio e i miei ritmi e tutto Una big city life Eh, sì, sì Quindi ancora un mesetto e poco Giustamente, insomma, noi siamo stati, sei stata anche io e Eli A Milano Un'esperienza bella Perché la siamo stati al concerto di weekend E stava molto bello Sì Però abbiamo trovato Ciao Abel Ciao Abel Lo salutiamo Ci invitò per sponsorizzare il suo tour europeo Noi siamo andati a Lazio Perché ci ha avuto quest'idea Lui è un tipo simpatico Tu, noi dovevo sponsorizzare il tour Tu, 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 va bene E questa cazzata l'ho detta E abbiamo trovato abbastanza problemi Nel senso Ci siamo resi conto E siamo veramente Di abitanti di provincia Eh, sì Un mese effettivamente Non è tantissimo Che adattarsi a una città enorme Come Milano No, infatti Io ho detto Tipo l'altro giorno Generalata Parto alle 5 La stazione centrale E torno a casa 5 la mattina 5 la mattina Chiaro, giusto Il problema è che Centrale è a 6 km da casa mia E non ho considerato questa cosa Ho svegliato alle 4 e mezzo Alle 4 ho detto Come cazzo c'è arrivo Quindi Monopattino 20 minuti Zack Zack Meno male Mentre Milano dormi Io Zack Muoio Cioè alle 4 Prendo un monopattino Invece Don Matteo Moderno Muoio Da una parte Mentre la città dormi C'era Esatto Io poi tra l'altro Penso che Milano Sia la città Dove sono entrato In più selfie Nella storia In un singolo giorno Perché In Piazza Duomo Mamma mia No E' incredibile Tutti a farsi selfie Giustamente Perché secondo me No Magari Va in un posto Tipo Roma I selfie Si dislocano Un pochino In tutti i posti Ma comunque Vabbè Più vero La città Però comunque A Milano C'è Piazza di Duomo Tante volte Piazza di Duomo La Galleria La Galleria La Galleria E poi ovviamente Le guglie del Duomo E poi ovviamente Non l'ippodromo Non l'ippodromo Assolutamente Non l'ippodromo No 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 Questa è una ritea Beppe Sala E ci ascolta Ciao Beppe Mi raccomando Mai più un evento Di quella portata A quell'ippodromo Oserei dire Del cazzo Mamma mia Per rispetto Ma osi bene Perché veramente Io Un concerto Come quello Perché Noi non so Se l'avete capito Ma siamo andati Con il concerto De Weekend Bravo per averlo detto Mi sa che era sfuggito Insomma Io un posto Come quello Praticamente Era come Se De Weekend Fosse a bella vista E noi all'ospedale Campostaggia Sostanzialmente Cioè Più o meno Era vera C'era un'ora Di fusolare Tra noi E The Weekend Mamma mia Quindi insomma Abbiamo Sperimentato Sulla nostra pelle Milano Milano E quindi Tempaticamente Hai fatto Una ripartenza Nella ripartenza Perché si è ripartito A settembre Come tutti Però In un posto nuovo Com'è stata Questa Doppia partenza Traumatico Anche perché Sono tornati Dalle vacanze Il 3 E il 4 Sono partito Quindi Sono leggermente Traumatico Stavo bello Perché i 3 mattina Eri a Scilla In Calabria Molto vicino Da Sicilia E i 4 sere Eri a Milano Milano L'altra parte D'Italia Molto bello Hai tagliato Un duro D'Italia Esatto Sì La partenza Nella partenza E Traumatico Comunque Ricominciare Dopo le vacanze La città nuova Lavoro E comunque Nuovo Perché comunque Avevo lavorato Sempre In smart Quindi Traumatico La prima settimana Tornavi a casa Cuffie Play Nostalgia Nostalgia Amai la terra mia Esatto Così Come Non ne so Una bistecca La Fiorentina Piangendo Poi Aggiungo Il fatto di andare Vivere da solo Cioè Non so da solo Conquilini Però Comunque Vivere da solo Certo Quindi è una partenza Nella partenza Nella partenza Ma com'è la sensazione Di Diciamo Vivi in un appartamento Sì Com'è la sensazione Di Diciamo Trovarti la sera Magari dopo scena In un appartamento A Milano Cioè La sensazione Di avere Di essere Su un'isola Tua Con fuori Un mondo Sterminato Fatto Di persone E mezzi Trasporto Scemento E droga Non ti dà una sensazione Un po' di Di comfort Di sicurezza Di nido Da cui tornare Ma anche smarrimento Sta per vomitare Ora fa una sgorata E meno sinner No no Però Sì Comunque Più che altro Ti accorgi La grandezza di Milano Quando sei a giro Cioè Quando vedi la gente Tipo in metro Che va Testa bassa E va Assurda Perché ti sei lì Ti sei abitato Comunque Appoggi buonze In cui vabbè Non conosci tutti Però Facce Le vedi Comunque se fai Una camminata Facce uno shoot Di zero Cioè Più che altro Non ti non si Dano proprio Sì è come quando Vanno a diritto Quando si parlava Della provincia Di questo discorso Dell'essere un po' C'è un po' spersonalizzante Magari una città Però ti dà Tanti servizi in più E tanti conforti in più Magari Il ritornare a casa E appunto Il ritorno al Al nido sicuro In una giungla Appunto Fatta di È capito Una specie di Casa sull'albero Sì Che poi sono al quarto piano Quindi sì Letteramente Una casa sull'albero Sì Una casa sul bosco Verticale Sì sì Però è un po' Poi c'è anche il balconcino Quindi Il mio spazio In cui Quando torno al lavoro Comunque Dopo lavoro Metto lì T'affacci Interazione di Milano Sì E un po' Quella Nebbiolina che c'è a Milano Non ho capito Fai Che aria Mamma mia Che aria Assurda Si vede Perché si vede Cioè si vede È lì È lì Palpabile Quindi non è come Quella di Totò Che quando arriva a Milano Cerca la nebbia Ma non c'era la nebbia Eh ma non si vede Non si vede Grande citazione Mi è piaciuta Però è strano Ripartire Cioè è strano Ripartire Dopo Fa una cosa Magari da settembre In realtà Come il nostro podcast In realtà Da febbraio Hai La tua Potidianità Nel senso Il tuo ritmo Tutte le settimane Puntate Tutto il tuo podcast Oppure tutti i giorni Al lavoro Ora appunto Io abbiamo minciato Allenamenti Martire e giovedì Allenamenti Venerdì Insomma Poi ti fermi Quando arrivi a ripartire Fa strano All'inizio ripartire Anche soltanto Ritrovarsi un'altra volta Con i microfoni È una sensazione particolare E poi svanisce Però all'inizio C'è un po' di magia Come se fosse La prima volta Sì No Perché infatti Per me questo periodo Ha sempre Portato con sé Diciamo Un momento Di Una sensazione Di speranza Versi il futuro Cioè io provo Comunque Molta eccitazione Diciamo Tra virgolette Quando penso al fatto Che Nella sua ciclicità Dovranno ritornare Tanti momenti Che si ripetono Tutti l'anno Però tutte le volte Diversi Quindi Ci sarà tra poco Il Luca Comics Per esempio A cui Voi siete venuti L'anno scorso Siamo andati tutti insieme Io ci vado Tutti l'anno Praticamente Poi c'è Natale Poi c'è Capodanno C'è tutta una serie Poi ci sarremo In qualche modo Si ripetono tutte le volte Però mi dà Una sensazione Proprio di speranza Good vibes Good vibes Sì Ma forse perché Allora Secondo me D'agosto Ora A parte che Noi Diciamo Siamo a ottobre Di già Però comunque Siamo lì Siamo all'inizio Sì È la ripartenza Era la ripartenza Del nostro Bravioso podcast Esatto Però ecco A agosto Noi siamo un po' In una bolla Secondo me Siamo in una bolla Sì Dal luglio Dai 27 luglio Vabbè Se ne parla a settembre Esatto C'è qui un mese In cui la gente Non vuole votamenti Di coglioni È stato deciso Che a agosto Nessuno fa un cazzo Esatto E quindi Niente C'è questa Non tutti Per l'amor di Dio Però la maggior parte Sì E quindi Poi quando finisce Questo periodo Ti rivieni Catapultata All'interno Dei tuoi ritmi Della tua vita Poi chi fa sport Lo sa Si inizia la preparazione Atletica Bel periodo Un bel periodino Piacevole Quello dell'acido latio Praticamente Quindi Secondo me Ecco Settembre Mi piace per questo Mi è sempre piaciuto Per questo Settembre Settembre Ottobre Sì In realtà Un periodo A me L'autunno È un periodo Che piace Teoricamente È un po' più di frescolino Comunque Si rientra un po' Appunto Mi dicevi te Nelle Nelle abitudini Si fanno sempre Durante l'anno Però all'inizio C'è questa magia C'è questa Quest'area particolare E l'iniziale Fa un po' strano Vero Cioè nel senso In alcuni casi Noi Ho un esempio Di un ragazzo Che era un classico Noi superiori Non farò nomi Perché Non credo ascolti Però non farò nomi Che addirittura Questa malinconia Questo malessere Ce l'aveva Durante le vacanze di Natale Lui staccava E rientra a gennaio Non so se ti ricordi Era proprio distrutto Non ce la faceva Noi Non ce l'ha fuori No basta Mi sono rotto Ah cioè proprio Viveva malissimo Più Nelle vacanze Natalizie Che in quelle estive Però Nonostante Non ci sia questa repulsione Verso la vita Come l'aveva lui È un po' È un po' Complicato Ripartire Al di là del fatto Nostro E siamo tornati La domenica All'undici e mezzo La sera E la mattina Tutti a lavoro Mamma mia È stato devastante Per quello Però In realtà C'è un po' Di rifioltare Ripartire Ma poi Andrò riprendi via Anche ora Io già Le settimane Passano Volando No no A voglia A voglia È strano Perché poi Non succede Durante l'anno C'è questa sensazione Non ce l'ha più No 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 Assolutamente Ma per te Che è stato Più traumatico Rispetto all'anni scorsi Questo arrivo a Milano Sì Cioè l'hai vissuto Con eccitazione O con più Insomma un po' di timore Anche giusto Volevo dire Un mix Perché comunque sì Ero comunque Eccitato Per il fatto Era una nuova città Mi ero trasferito E tutto E quindi forse Anche lì Non l'ho sentita molto Anche il peso Della ripartenza Diciamo così Quindi era molto più carico Ok Quindi dicevo Da esplorare Tutta Milano Quindi Anche persone nuove Conosciute Al lavoro Quindi È tutto Non l'ho sentito molto Rispetto agli altri anni Anche se effettivamente Io non ho mai Settembre Qualche volta Prendevo anche ferie Quando facevo il postino Mi ricordo Prendevo ferie a settembre Perché Era l'ultima arrivata Da questo Una volta Quando andasti A Berlino A Berlino Da sole A metà settembre A fine settembre Che forse È quasi Cioè Settembre È un settembre Come quello di quest'anno Abbiamo quasi Andato a settembre C'è molta meno gente Ora Armin Noi tre Noi siamo andati In Calabria Per chi non lo sapesse Nella settimana a cavallo Tra agosto e settembre Fantastica Cioè Meraviglioso Sì Meraviglioso Perché non c'è il caos D'agosto Cioè Il numero giusto Di persone E comunque Faceva ardo Cioè Stava bene È stato strano Gli ultimi giorni Prendere consapevolezza E fossimo a settembre Sì Sì Quello è vero È solo quello Quando sei lì In Mario Fai È il primo di settembre Porca puttana Porca puttana Peraltro perché Cioè L'estate Quest'anno Mi è volata Sarà che Io ho ascoltato Tante volte Se puntate Estive Di Turo Podcast Quindi Mi è volato Ero io No Però Quest'anno Noi appunto Oltre a Le puntate Dei speciali estivi Che abbiamo fatto Abbiamo Fatto le solite cose Niente di più Abbiamo partecipato A un evento E noi abbiamo ringraziato Prima Intrecci Che Qualche settimana fa Ci ha invitato A partecipare A questa tavola Rotonda Salutiamo Anche gli amici Di Intrecci Ciao a tutti ragazzi E li ringraziamo Ancora Per Per Averci voluto Lì con loro Però in realtà A parte queste cose Che gli altri anni Non facevamo Non è che Cioè Abbiamo fatto le stesse cose Sempre Però mi è volata Cioè Stava proprio un'estate Molto veloce E quindi Andati fermi Ascilla il primo di settembre Fai Cazzo È già settembre È vero Quando è che è stato Tipo il 28 di luglio Anche perché Per me è stata Una delle pochissime Forse la La prima vacanza Che ho fatto Che ha scavallato Agosto e passato Sì Anche per me Quindi è stato Stranissimo Sinceramente Sì perché gli altri anni Siamo andati O a cavallo Con la settimana di ferragosto O anche prima Prima Tra l'altro Cioè Quando siamo andati A cavallo di ferragosto Consigliato a tutti Perché in giro Non c'è nessuno Quindi c'è Se volete Gli anni prossimi Prenotate Perché Proprio Una festa Anche per l'estate Lo scorso Lo scorso Siamo andati prima Ma quando siamo andati A Gallipoli Nel 2018 Se non sbaglio A cavallo Come la settimana di ferragosto Fu veramente Un viaggio piacevo E l'altro molto breve Per arrivare Esatto Viaggi tranquilli Sì 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 sereni E ora Settembre però è finito E siamo Scavallate A ottobre E avete Cioè che rapporto avete A ottobre Perché secondo me Ottobre E novembre Sono due mesi Un po' interluttori Che poi a dicembre Cioè Oh dai Un filo di fusione Nel mondo Dal primo dicembre Primo dicembre Uguale Natale O meglio Attesa del Natale Quindi è bellissimo C'è Mariah Harry Tipo così Che struscia Sordi ovunque Che da sia Anche Michael Bublé Che sta gente No Io Personalmente Allora Come ho detto prima C'è Un evento Che per me Al pari Di Tante festività Ora Natale Diciamo Natale Anche se Perché Per me è molto importante Cioè per me Luca Comics È uno spartiacque Quindi ottobre Per me è Comunque Tra virgolette Una preparazione A quel momento lì Perché Luca Comics C'è sempre Tra Tra cavallo Tra ottobre E novembre Quindi per me Quello è sempre stato Un punto fermo Diciamo Poi tra virgolette Secondo me Sono normali Cioè nel senso Mi garbano Perché forse Prendo l'onda lunga E l'entusiasmo Settembrino Me lo porto fino A novembre Inoltrata E poi c'è Poi c'è Il periodo natalizio Quindi per me È abbastanza normal Non so Per te No Per me Anche Per me Che altro Mi ricordo Durante il periodo L'università Vabbè L'economia Iniziava sempre A metà Settembre Quindi Però da ottobre Quando rientrava Anche tutte le altre Facoltà Si vedeva effettivamente Che l'università Ricominciava Quindi era molto 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 bello E Quindi da lì C'era quell'ottobre Novembre In cui a parte dove inizia A studiare Perché Sì Queste cose Interessanti Partivo L'ottobre Inizia Perché se ne arrivava Dicembre Era lì E Quindi No Però Sì Ottobre Novembre Sono il febbraio Marzo Dall'altra parte Quindi Più o meno So Infatti Sì la domanda Successiva Il L'ottobre Novembre Sono il febbraio Marzo Per me Assolutamente Anche sono me Sono te sì Io vorrei vivere Tre mesi in meno L'anno Personalmente Cioè Ufficiale Da fine Befana Ok Fino a fine marzo Cioè Poi C'è anche Chi ti garba marzo Io Per l'amor di Dio Contenti voi Rispetto per tutte le opinioni Io Rispetto per tutte le opinioni A me non piace Personalmente Cioè per me Si potrebbe arrivare Direttamente ad aprile Quindi Cioè Pasqua Poi ho visto Pasqua A volte Casca Bassa Anche a marzo Ma Quei periodi per me È da mettersi le mani A pelli Cioè Proprio Tipo Il Nove di febbraio Madone Il nove di febbraio Tragedia No Allora in realtà Sai io Perché non è uguale A parte perché Tipo In quei mesi Io comincio a stare Male O l'allergia Però questa è Nota mia personale Ma poi perché Se io Tipo A febbraio Il nove di febbraio Prende salato ormai Penso al Ventitré di novembre Al 30 D'ottobre Dico Ma che cazzo È un periodo di merda Ah sì Però quando ci sei In realtà no È un periodo No Ottobre novembre Cioè Ossia ottobre novembre Che febbraio Marzo Aprile Sono scivoli Verso Qualcosa Ok Ok te li vedi Sì Ottobre novembre Però più corto Comunque sono solo due mesi Arrivi qua Dicembre Febbraio Marzo Aprile Mamma Scusa Scusa Oddio Il caldo Quando arriva Infatti io Vorrei aprire Dove cazzo vuoi arrivare Febbraio Marzo Aprile Maggio È finito l'anno Dove puoi arrivare Sono scivoli Ah luglio Agosto È lunga È proprio lunga Infatti Però per me Siamo lì Scusa ma quindi Non ti piace nemmeno Maggio Giugno Ti piace ovunque Vivere Sì Ok no no Guardate qui Due mesi Luglio Agosto Agosto Dicembre Che poi Adesso Simita Luglio Agosto Dicembre Si assomigliano Caldo E freddo Mix pazzesco E in mezzo Fanno un clima Mite meraviglioso Quest'anno Era arrivato A un punto Cioè non sapevo Come fa Veramente Perché È stato Che è stato Maggio Che avevo tutti i giorni Sì anche giugno In realtà Sì Fino alla buona parte Di giugno Io non ne potevo più Cioè era arrivato A parte era arrivato A un punto Cioè avevo raggiunto Il Nirvana Cioè rassegnazione Della serie Quattro e mezzo Piove Esatto Era L'acqua Era così E basta Però ti giuro È arrivato a un punto E ho detto Basta Deve finì Questa cosa Deve finì Deve finì Per forza Perché se no Voi amati Poi infatti Si ci dà Assoluta Disgrazie Tranne qualche piogge Così 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 Che giusto Una volta Hanno fatto Frizzantina Hanno fatto stare Pallostaggia Giusto Due gocciole Però allora Quindi per te Da qui a dicembre Luca Comics Natale C'è gli appuntamenti Gli eventi Sì Quelli topici Halloween In mezzo Halloween Volendo Halloween Fino novembre Lo senti meno Non lo voglio Festeggiare No Halloween Si sta così Giusto Perché c'è il primo Di novembre Poi è festa Si sta a casa Per quello Quindi allora Nel tuo anno Eri 95 No Nella tua annata Da gennaio A dicembre Gli eventi Clu Dell'anno sono Luca Comics Natale Da quando scusa Tutto l'anno Tutto l'anno Sì C'è Natale Nel senso Natale Il periodo Che da Natale Arriva fino alla Befana Anche se Arriva alla Befana Sono morto Spiritualmente Non so Comunque E anche intestinalmente Poi c'è Il banchino Ok E Eh 28 aprile Grazie Nota delle datture Poi c'è Il 4 maggio E qui faccio Un occhiolino A chissà Giorgio Perché il 4 maggio Il 4 maggio E che compleanno Di Bravo Bravo Sono 20 mila Compleanni A maggio La segna Rancheria Sembrava L'interrogazione Italiana E poi Poverai c'è Pasqua Pasqua è un bel periodo Prima del banchino Pasqua è una bella settimana E ganza Quindi tipo Fammo un podio Podio? I primi tre Eventi focali Del tuo anno Natale Primo Eh? Primo Lasciando stai comprare Una margherita Sì Ovviamente E Ciao Marghe Per me sono Natale È il primo posto Natale Cioè il periodo natalizio È bello Mi piace E poi Banchino E Luca Comics Questi sono I tre eventi Mi piacciono Più In generale Poi vabbè Il periodo estivo E soprattutto Sanremo Ovvio Non l'ha detto Ma C'è anche evento Momenti dell'anno Natale Ci sta anch'io Vabbè Però poi Per esempio Sono nato il 15 dicembre Quindi dal 15 dicembre Fino al 6 E bagordi Esatto Vamos Partirò Cantem Esatto Poi Vabbè Le vacanze Di agosto Anche vedete Luglio Agosto Dicembre Esatto Succede in questi tre mesi Il resto No Quindi Effettivamente 15 dicembre Partiroccato Ha fatto Vida loha E poi arriva il 6 Muoio Un mese 6 muoio Scevo lungo Molto lungo Ti porta fino all'estate Un cargo prolungato Però appunto L'altro periodo Dell'anno Di sosta Del mondo Alla fine Natale Cioè Dai 10 dicembre Se ne parlano Novo E si fermano veramente Tutti Tutti In mondo Si ferma Cioè Almeno Il nostro mondo Quando poi arrivi A ripartire Cioè Avete la stessa De fioltà Del post estate Oppure no Peggio 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 Molto peggio Secondo me Peggio Perché te l'ho detto Infatti te fa un mese Di bagordi Va bene Vabbè Distrutto E masciato Il 7 dicennario Però Nel senso Per quello Ti ho detto Per quel periodo E per me È insostenibile Gestibile Cioè proprio Non c'è niente Cioè se ci rifletti Ora c'è San Valentino Ma E tu spendi Cioè nel senso Tu vai Ci sta parlando Di eventi Cioè di Di cose Sì Belle No ma no Niente Niente San Valentino Però oggettivamente Cioè ma che festa è Dai Tipo In altri posti Tipo Nelle zone Do fanno il carnevale Dove il carnevale È importante Quello è il periodo Più bello dell'anno Quello è vero Noi Quello Non ce l'abbiamo Quindi cioè Il carnevale Poi Tra parentesi Come festa È stata Anche in qualche modo Inventata Per questo motivo Per sopravvivere Per far fronte a Vabbè questa è un'altra Un'altra storia Diciamo tra virgolette Comunque ecco Per me Per questo motivo qui Per me Quello è peggio Una ripartenza Che io non Mamma mia Non so come fa Io credo Di far più fatica Quando reparti I primi giorni Post estate Cioè post Ferie estive invece Perché comunque Ti fermi A dicembre Ma Non come d'estate Però Non lo so A gennaio Cioè lì proprio Cioè l'inizio Del nuovo anno E quindi Fai il recap Ah In dici Ah Quest'anno Devo fare Queste cose nuove O comunque migliorare Quindi ci sono Di tirare Comunque dell'ansia Che ci sta Secondo me Anche fatto Allora io Come sono fatto io Tipo io mi annoio Quindi veramente Dopo essere stato Un mese In vacanza Che poi non è che Dici Un mese in vacanza Una settimana In India Una settimana In Giappone Due settimane A Caraibi Poi torno Mi girerebbero I coglioni Però in generale No Almeno avresti fatto Tre settimane In giro Dici Ecco Volevo dire Un cristiano normale Fa uno Due settimane L'anno Poi il resto Di tempo libero Comunque più o meno Lo passa a casa Fa qualche giratina In zona Almeno nella mia Esperienza Quindi è arrivato Un pochino Che mi piace Comunque ripartire Con gli impegni Ecco Tra virgolette Tra virgolette Lavorativi o O meno Quando finisce Natale Tu c'hai quelle due settimane Dove Magari sono Anche meno Due settimane Dieci giorni E però secondo me Sono troppo brevi Quindi ci Ti manca Qualche cose Brellina in più Quindi secondo me È anche per questo È anche un bel periodo Perché anche Tutte le persone Magari Lavorano fuori Stanno fuori E Tornano È un bel momento Anche perché Si sta effettivamente Tutti insieme Come non capita Magari tanto spesso Quindi insomma Sì Effettivamente I giorni lì Sono molto belli Secondo me tipo Bisognerebbe Inventarsi una cosa Tipo in Francia In Francia Ci sono Le vacanze Nel periodo Fra carnevale E il periodo In cui comincia La primavera Favere e marzo Fanno una settimana Di vacanze O le vacanze Di primavera Sarebbero C'è proprio Pestatuto Ce l'hanno Sì C'è nel senso Le scuole sono chiuse Quindi di conseguenza Tipo anche Ovviamente Chi c'ha figliola A casa Tende più a stare a casa Cioè Diventa una cosa Un po' più Più Cioè Un momento di Stop Che sono Magari appunto Potrebbe servire Per il momento Post Bagordi Natalizia A parte Che fa un mese Di Delirio Però Effettivamente Ci sta Ma te la fate La top 3 Dei tuoi periodi Preferite L'anno Io non l'ho fatta Natale Natale È in primo posto Assolutamente Ok Poi Allora In realtà Io sono Molto Influenzato Dal fatto Che nel periodo In cui Noi Si Si comincia A uscire O uscire Nel senso A stare più fuori Perché Le giornate Si allungano In realtà Io Sto Da cani Con l'allergia Quindi Cioè Per dire Anche Il banchino È un Momento Bellissimo Però Non è un momento Non sto mai Benissimo Da dire Ah Cioè Me lo godo Quindi Sicuramente Sì Cioè So Un po' Cioè Quei ricordi lì E quei momenti lì Sono un po' Perdono un po' Di valore Per questo motivo Il primo posto Assolutamente Natale Non ci trovo nemmeno Poi in realtà L'estate In realtà Non solo Le ferie Ma anche Il periodo estivo Che tipo Esci sempre La sera Cioè Le giornate Sono lunghe No ma infatti Poi non stanno Spero questa cosa qui Cioè Dovevi sapere Che io Andavo a fare Acqua bike Questa cosa Siamo stati Nel chill Partiti nei tennis Cioè veramente Quindi l'estate In generale E Poi in realtà Secondo me tipo Anche il periodo Di febbraio Almeno io lo riempio Molto Con la partita Prima Che scherzavo Il discorso di Sanremo Però secondo me È un buon riempitivo A me Sanremo Non si dice Sì La settimana di Sanremo Tutto quello che c'è Prima e tutto quello che c'è Dopo Cioè Sì diciamo Mi permette di passare meglio Febbraio Fondamentalmente Febbraio Marzo Forse Forse sì Forse Sotto certi aspetti È l'unica cosa Che può salvare In qualche modo Dalla melanconia Di quel periodo Però Non so Cioè a me tipo Il periodo del banchino Mi piace Ma perché È più esteso Del giorno del banchino Sì sì no Nel senso Io c'ho vicino Il mio compleanno Poi c'è il primo maggio C'è anche Pasqua È capito Tutto quel periodo No ma quel periodo lì Io lo metto al terzo posto Ma non perché mi piaccia meno Ma perché appunto C'ho questa Questa brutta bestia Debilitazione Però comunque Cioè nel senso È un momento molto bello Perché poi È il rinizio Dell'uscire la sera Per bene Lo star fuori Per davvero Perché insomma Durante l'inverno Star fuori Ma insomma Fino a un certo punto Ecco Sì questi sono Questi sono momenti Buono Ma Te invece Che ha detto Natale Natale No Natale E l'estate Che va Tre mesi l'anno Perfetto Ma in generale Voi Ora Faccio un po' Un argomento parallelo Una domanda parallela Riguardo Cioè comunque Nuovi inizi Ma in generale Come la vivete voi Come lo vivete voi Un nuovo inizio Lasciamo stare l'anno Qualsiasi cosa Quella volta Ecco vedi Il pugnetto Di Sarei sulla stessa lunghezza Esatto Tipo no Te frate Ha cambiato squadra Quest'anno Dopo anni E Quindi È una nuova esperienza È un nuovo momento Cioè come Lì vivi Tanto non è la prima volta Che cambi squadra No L'avevo cambiate diverse Nella mia vita L'ho cambiata tante Cioè quando si tratta Di ricominciare qualcosa Di nuovo Come In questo caso specifico Dopo Sette anni Quindi Era tanto Che C'era E c'è tuttora Un certo legame affettivo A La defunta Virtus Biancazzurra Allora C'è un mix di sensazioni Io quando sono andato A fare il primo allenamento Che tra l'altro Era esattamente Il giorno dopo Essere tornati da Scilla Un giornatino C'è un mix Di Almeno io ho un mix Di Di emozioni C'è un po' Di Smarrimento Perché sei in un posto nuovo Almeno io ero in un posto nuovo Dove conoscevo un po' di gente Ma non conoscevo Non conoscevo la gente E il luogo Come Se fosse rimasta giocare Dove ero rimasto Gli ultimi sette anni Però c'è anche Quell'eccitazione Di Si ripartire un posto nuovo C'è Quella voglia Di scoprire Lo posto nuovo Di non c'è gente nuova Almeno a me Mi ha spinto A decidere Di continuare E di andare Appunto A Castellina Scalo E Quindi su me C'è questo mix Un po' di No timore Però di Chissà che ci sarà Chi Chi troverò E come mi troverò Ma c'è anche La voglia Di Di vedere Effettivamente Come andrà la cosa Almeno io l'avevo Sì Fortunatamente Cioè Spesso e volentieri Mi è capitato Negli ultimi tempi Quando faccio Quando ho avuto Nuovi inizi Il timore iniziale Tende Nel giro Di qualche giorno A sparire E rimane Soltanto La voglia Di conoscere La gente nuova E le persone nuove Che appunto Sono in questo nuovo ambiente In cui prima Non c'eri Mi è capitato Lì Mi è capitato Quando Meno di un anno fa Ho cambiato lavoro Ho iniziato a lavorare Dove so ora Quindi c'è La vivosi C'è questo dualismo E poi Tendenzialmente Porta A far sì Che La parte Dell'emozione Della voglia Di Conoscere gente nuova Diciamo Si divori l'ansia Ecco Del nuovo inizio Voi come Eli Eli Io Ma io Non so A volte C'ho Diciamo che E' un mix Tante volte In certi momenti Prevale un senso Di timore Per quello Che Per l'ignoto Di più timore Che All'inizio Si All'inizio Si Poi con gli anni Diciamo Ho imparato a gestirla Sta cosa Penso Penso bene Nella misura In cui non mi Non mi crea più Ansia Perché quando ero più piccino Comunque Un po' di ansia Me la creava Sta cosa Ora invece Più Si è più Mitigata Tra virgolette Si è trasformata In qualcosa Più Vicino al timore Ma Riesco a gestirla A gestirla bene Ma Secondo me Più che altro La mia E' proprio paura Dell'ignoto Ma penso sia in generale Paura dell'ignoto Sì Una specie C'è Metterti Di fronte A qualcosa Che non conosci Perché poi mi sono reso Come quando Come quando si cambia lavoro E si entra in un ambiente nuovo Tra l'altro Secondo me questo E' un bel riallaccio Alla prima puntata Della prima stagione Di Turo Podcast Sull'imbarazzo Però Diciamo che Ti rendi conto Una volta Che c'entri Che è una situazione Molto più piccola Di come te l'ammaginavi Secondo me La maggior parte Delle volte A me Mi è sempre capitato Sì Quindi Prima di viverla Mi facevo Dei film mentali In cui mi sentivo Totalmente Magari Spaisato Poi dopo Una volta messo a confronto Con la realtà Della situazione Dei fatti Mi rendevo conto Che era una cosa Diversa Da come me l'ammaginavo Quindi Questo è un po' Diciamo Come vivo io Questa cosa qui Io la rivedo anche molto Nei pensieri Che uno ha Cioè se uno ha Un pensiero Che lo turba Se lo tiene Nella sua testa C'è il rischio Che questo pensiero Si deformi E diventi enorme Se invece magari Riesce a parlarne Questo è Turo Podcast Per i sociali Però se uno riesce A buttare fuori Il suo malessere E a condividere Con qualcun altro È come se Quell'ansia Tu ce l'avessi davanti Tu la vedessi E quindi Magari ti rendi conto Che è minima La stessa cosa Quando entri In un posto di lavoro Te lo immagini In un certo modo Dio che ci sarà La paura dell'ignoto Mi dicevi te Però quando ci sei dentro La vedi È la realtà Si si vedi Ci sono Mini di ciccia Che fanno Le tue cose È vero Il mio problema L'ansia Che ho sempre io È che io Penso di fare Una pessima Prima impressione Io ho questa sensazione Che poi non so Se è così Davvero Quindi C'è questo timore Ma poi dopo Voglia Che la gente Smetta Di pensare di me Quello che io credo Possa pensare di me All'inizio Cioè è tipo Vabbè questo è un coglione È quella sensazione Che io Di me stesso Cioè che gli altri Abbano di me stesso Appena mi conoscono Quindi Se ti può aiutare Non lo so Però Io Sono sempre arrivato Alla conclusione Che quelli che In ambienti Come qui lavoro All'inizio Partano benissimo Anche a livello Di interrelazioni Personali Umane Di solito Si sgonfiano Dopo Danno tutto all'inizio Tipo Secondo me sì Però questa è una cosa Mia Personale E te invece Fra Quale è la domanda È di buono Perché siamo Nei mesi E lo scivolo Allora Allora Aspetta La devo rifare un pochino Allora In sostanza La domanda Che le ve lo fa anche Io però Non me ne ricordo Tra l'altro è vero Allora Aspetta Con calma Allora Ora mi ho fatto emozionare Ce l'hai Ce l'ho Ce l'ho Ok vai Allora Per quanto riguarda I nuovi inizi Ok Ora qui si parlava Dell'anni Fino a ora Del periodo dell'anno Ma qua si tratta anche Di altri ambiti Della vita Quindi I nuovi inizi Al lavoro I nuovi inizi Magari Ne so Entri in nuovi gruppi Con cui esci La sera dopo scena Come ti rapporti Con questo Con questo cambiamento Con questo inizio nuovo Allora posso prendere Ad esempio Una delle più grandi Ripartenze Diciamo Che è quella Di quando Inizia l'università E Però quella Era una ripartenza Comunque Consapevole Comunque Era voluta Quindi arrivavo Già un po' più Tranquillo E Sicuro Di quello Stavo facendo Invece Quando per esempio Iniziai a uscire con voi Che è anche Quella è un'altra Grande ripartenza Quindi cambio di gruppo Di amici Lì Conoscevo solo Bighe E lì Effettivamente Un po' di timore C'era Su come Farmi conoscere Comunque Sono abbastanza Anche la persona timida Quindi era un po' Obbliato All'inizio Però anche lì Dopo un po' Alla fine siamo qui Quindi Da abbastanza bene Quindi Sì Le ripartenze Se sono volute da me Io vado Tranquillo Cioè se sei una ripartenza Voluta da me Ah ok Io sono Un punto di vista interessante Se invece Sono subite Ci metto un po' A capire Come Come è stato Per me In realtà Anche se la decisione Prendo io Quando arrivo a partire In un posto nuovo C'è sempre un filo Di Sì Un po' di Vediamo Vediamo Ma qualsiasi cosa Cioè anche appunto La prima volta Siamo andati a fare Aquabike Sì 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 Per dire Che sarà Cosa sarà Qualsiasi cosa Cioè queste biciclette Ma Come funzioni Sono effettivamente La biciclette Ci sono delle ruote Sono fisicamente Delle biciclette No eh sì Quello è vero Quello è vero No vabbè È proprio questione di testa Secondo me Però questo Se ti ho detto È interessante Perché Cioè Probabilmente Diciamo Quando sei padrone Nel tuo destino La gestisci meglio Forse perché ci rifletti Prima Di cominciare una cosa Non lo so Sì Però ecco Comunque È una cosa Che ho scelto io Quindi So cazzi mia Quindi Non devo Non stare Sì è vero Questa è una cosa Interessante Perché a me Non me lo fa Lo stesso effetto Infatti È particolare Perché anch'io So Cioè Reagisco un po' Come te Mentre questa Era un punto di vista È bello Grazie No bello Cioè Denota secondo me Una forza mentale Non indifferente Cioè Davvero Per quanto mi riguarda È così Cioè Te dici Io Una cosa L'ho fatta Cioè La scelta io E quindi Di conseguenza Vai tranquillo Libero Sì Tranquilli Cioè Anche Cioè Comunque Un periodo Sì Con L'incertezza All'inizio Però Molto meno rispetto A quando Subisco Tipo L'ha detto Quando Inizia a uscire con noi Ma Un altro esempio Tipo di Una scelta subita Le può essere Cioè Cosa intende Per scelta subita Dico Se ti capita Non lo dici Quindi tipo Perché anche cambiare lavoro In realtà Non è subita Eh no Anche lì Sì Cioè Come vivi Ora ti hai cambiato lavoro Da relativamente poco Comunque Al di là del fatto Sei andato a Milano Ma anche Quando eri qui Era da poco E lavoravi smart Cioè Quella lì È una decisione Che te vedi Come una decisione Subita O No Quella È tua Quindi anche lì Sereno Sì Non serenissimo Però Sì vabbè Comunque Però molto più Mentalizzato Quindi il consiglio Che ti senti di dare Qual è? Questo era perfetto C'era frate sotto Dun 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 Mindset Siate orgogliosi Di voi stessi Perché le vostre scelte Ti classifichiamo Per quello che sei Esatto Rappando Non ce l'ho Però ecco Sì essere più tranquilli Quando Secondo me dipende Il cambiamento Dipende anche da Dalla Dalla contingenza Della situazione Cioè io quando Un anno fa Praticamente Ho deciso di Non farmi Innovare il contratto Davvero prima Lavoro Era una scelta Che io ho preso Non con l'ansia Di dire oddio Cazzo Ho lasciato un posto Dove Sarei stato assolutamente Chissà che mi aspetta Non avevo assolutamente ansia Avevo soltanto voglia Direvami Dal cazzo A quel posto di merda Quindi nel senso Su me dipende anche Da Le sensazioni da te E dalle contingenze Di momento Cioè se dici Io ho fatto questa scelta Che per qualcuno Può essere un po' Diciamo Portatrice d'ansia Per me non lo è Perché in questa situazione Quindi è giusto Fa così Io in questo caso qui Sono un po' Più tipo Ceggio Però mi aspetta Raramente No ma quello Quello anch'io Però In mio caso È un pochino più Generalizzata Cioè in generale Quando mi trovo A dover far fronte A una situazione Che non conosco C'è un po' Di C'è un po' Di timore E come Diciamo Rigetto Come Diciamo Difesa Rifletto parecchio Su quello Che mi potrebbe Attere Però Rifletterci tanto Ti fa stare più tranquillo Ti mette ancora più ansia Mi mette Sì Overthink Più puro A volte potrebbe Mettere Il termine Anglosassone Ragazzi Però questo L'ho capito Anch'io Questo Ci sono arrivato A volte Sì L'overthinking Fa Gioco brutti scherzi Però devo dire Onestamente In questi anni Secondo me Poi anche Riescendo A forza di L'esperienza Che accumuli Ti portano Anche A sviluppare Degli anticorpi Su questa cosa Quindi Buono Ragazzi Io direi Siamo arrivati Non so se voleva Aggiungere qualcosa Siamo arrivati In fondo A questa prima puntata Della seconda stagione Turopodcast La nostra ripartenza Gesù Ci sarà da scivolare Un po' Però poi A dicembre Vai tranquillo A dicembre O vieni sempre Ebriaco Scegli te Poi No poi Quest'anno Io stendo a Milano C'è Sant'Ambrogio No Voi Vero Sant'Ambrogio Un mese e mezzo E basta Poi c'è L'Octoberfest E l'Octoberfest Tutmo andavo Così Ebbene Quindi Finisce qui La seconda Sì La seconda puntata Ciao La seconda Stagione La prima puntata La seconda stagione Turopodcast Grazie mille Vi siete arrivati Fino a questo punto Mi raccomando Ballate Su queste note Ci sta Questa è la sigla finale Però Purtroppo La nostra regia Ce l'ha mandata un po' Prima Seguiteci su Instagram Dove ci posso trovare Su Instagram Potete trovare Gerald Forgarzia Ma anche Chiocio la Turopodcast Chiocio 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 Sì vabbè Chiocio Sei sempre Chiocio Sì vabbè Turopodcast Turopodcast Oppure Cosa possono fare Oppure possono scrivere La nostra Casella mail Casella mail Casella di posta elettronica Casella di posta elettronica Che sarebbe Turopodcast Chiocio Tutti i retrosceni E perché Se foste nel mondo Del podcast Quanto ci siamo noi Bene ragazzi È stato molto bello Ripartire Ci risentiamo Giovedì prossimo Con l'appuntamento Canonico Che riparte È un Turopodcast Grazie Eli Grazie Ciocio Grazie a te Ciao Ciao a tutti Ciao ciao